Sto andando l'Eurospin e l'agentino di subno ce l'ho praticamente E' anche una cosa per uscire un po' Diciamo che da quando c'è la quarantena mi sarò uscito tre volte in cruce Perché io rispetto le regole, se mi ricordo di fare una cosa la faccio Per quanto mi venga difficile E niente Adesso voglio allungare la riapertura delle scuole lì La gente è stupida La gente non si rende conto La gente non si rende conto che Più fanno così Cioè C'è quanti metodo Chi le regole le rispetta E allora noi siamo stupiti che Ehm E allora E allora noi siamo stupiti che Stiamo chiusi dentro casa Questa è la La situazione Vado a dare uno spin E niente Ci vediamo dopo Continuo anche di qua Questa è un'altra via dietro casa Io sto camminando patinente in mezzo alla strada Non c'è nessuno E E Dopo il vento La cosa che mi dà fastidio è che c'è il sole C'è proprio Devo prendersene benissimo in giro Perché no Questo è La cosa Io spero che questa volta finisca presto Perché Non è possibile E Vabbè 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 Ho messo la cosa Che Mi sogno entrare una persona per volta Fino a due giorni fa Erano due persone per volta Oggi Non è tutta una per volta E Mo' vediamo Dico un po' come Quanta gente c'è Io in teoria ho un supermercato di fronte a casa Però non posso Entrare perché ho Tutto il discorso del papismo Quindi il supermercato di fronte a casa mia è off limits A prescindere in questo periodo Anche se quest'anno è cominciato prima E E uno veramente impazzisce Niente Un po' di divento È un po' di divento È un po' di divento E un po' di divento E un po' di divento Grazie.